Raga, questo è un bel problema, eh? Questo è un bel problema, ma un problema non da poco. Raga, mi dispiace, ma mi sa che devo far finire la live per questa roba. Fra io e fai a tutti, io sono Octi di Pure Fibra Italiana e in questo video ho registrato alle 3.09 del mattino. Infatti devo parlare pianissimo, altrimenti mi sentono scusate se non sto usando il green screen, ma fa rumore, tirarlo su e metterlo via, eccetera. Vi racconto la storia di quello che è successo nella live che ho fatto qualche giorno fa, dove mentre stavo bevendo della Monster, a una certa l'ho messa sul tavolo, ho mosso l'asta del microfono e l'asta ha fatto cadere la Monster. Cadendo, un po' di Monster si è rovesciata sul mio telefono, un po' sulle mie cuffie, ma soprattutto un po' sulla tastiera, mandando la tastiera completamente in palla. Come sarà andata a finire? La live l'avrò spenta? La tastiera sarà salva? Beh, lo scoprirete più in là nel video. Però prima, stoppate il video e scrivetemi secondo voi quello che è successo alla fine. Comunque, se ancora non siete iscritti, iscrivetevi al canale e se volete supportatemi nello shop con la quale c'è supporto da un creatore OctiPFI. Detto ciò, buona visione. Grazie, non pione. Oh, bella. Ti basta? Dio! Dio! Sono un deficiente. Bro, devi darmi un attimo. Ho spanto la monstra perché sono un c***o. Ci stanno pushando. Ci sono. Problemino, sei in mezzo, proprio in mezzo. Luigi, no, grazie mille per la donation, bro. In questo momento sono in questo... Ok, adesso sono un full team. Ci hanno già visti. Vecchie, un attimo. Vada a nascondermi. Scusa, eh. È che devo pulire qua, devo pulire. Io vado a fermare un attimo. Mi metto, mi metto nella stanzina qua. Arrivo subito, arrivo subito, cavolo. Che problemi, Dio. Che schifo, Dio. Ora ho le cuffie che mi servono di Monster e non solo quelle. Un attimo, vecchie, un attimo. Andare in 6, fai una jump. La perderemo miseramente. Raga, un attimo, un attimo, eh, scusate. Che qua si fanno i casino. Che è sta roba? Abbiamo sa c***o insieme. Oppure no. Cosa sta succedendo? Stanno pushando male tutti. Andiamo, vieni. No, la safe. Eh, ti ho detto a 26 secondi. Arrivo. Eh, io muoio. Muoio. Dio. Eh, devo pulire la tastiera qua. Perché, raga, partita buttata per una strunzata. Che poi come fa ad arrivare sulla tastiera? L'acqua pulita. Dio. Mamma mia. Teoricamente ha risolto adesso. Teoricamente. Grandissimo, Rika, Luzzer. 1v2. Tirati gli scildini. Chiuditi, chiuditi gli scildini. Lo scildino. Bro, gli scildini prima. Eh, ma adesso sto sotto. Vabbè, ma io me lo ti... Ah, ok, te lo sei tirato. No, faccia di merda. Eh, sì. Ma ero 1v1? Eh, avremmo potuto vincerla in due. Eh, sì. Eh, colpa mia, vecchio. Colpa mia. È colpa di Kevin che è morto. Teoricamente la mia tastiera dovrebbe aver ripreso a funzionare ora. Teoricamente. Raga, eh... Io vi chiedo veramente un miliente perdono per come è finita questa partita, ma... Non mi ricordo neanche più come si mette sto tasto. Ok, ok. Speriamo che la mia tastiera non abbia problemi, vai. Vai a studiare, tu mi ha... Polato! Polato! Oh, cazzo! C'è Polato in live! Polato! Oh! Saluto a tutti i miei fan. Polly? Ho appena versato la Monster sulla tastiera, sulle cuffie, su... Dappertutto, Dio. No, la mia tastiera ha problemi. Dio. No, raga. No! Ok. Vecchi! Mi sa che la mia tastiera è partita per ora. E non hai altre tastiere? Sì, ce l'ho, però non è una cosa buona che stia succedendo questo. Cioè, io non so se lo vedi dalla live, quello che sta succedendo. Eh, no, ce l'ho spenta adesso. Ok. No, non mi va niente. Fidatevi, non è una cosa buona. C'è Conte in live anche! No, io, io mi sa che non posso giocare. Dove vuoi? Vecchio! Eeeh... Mi viene da bestemmiare. Guarda cosa sta succedendo! Posso giocare? Io abbandono la partita. Se riesco. Non riesco! Dai, Dio, ma cos'è sta roba? Vecchi! Io non so se tu vedi quello che sta succedendo dalla live. No, no, ce l'ho spenta. Ecco, fidati che non è una cosa buona. Dai, maledetta mostra. Guarda, testi, devo togliere tutti i tasti della tastiera. Sai cosa faccio adesso? Vado a prendere il phon. Eh, ok, sì. Cap, vado a lottare gli altri. Eccomi qua, eh. Sono qua. Sono qua a bestemmiare. Ma io spero che vada, diamine. Raga, questo è un grave problema. Forse va! Sì! Sì! No. Stiamo avendo riscontri positivissimi. Raga, forse torna ad andare. Ok. Capo. Capi, mi senti. Microfono. Dimmi te, se mi devono succedere ste robe, ragazzi, adesso arrivo. Cosa? Ho fatto il phon sulla tastiera. Perché ho versato dell'acqua sopra. Eh. No, no, no. Ma scusa, eh, io metto via il phon e adesso riprenda non andare. Ma stiamo scherzando. Ma che... Ah! Ma che schifo! Io mi sto arrabbiando. Maledetta tastiera. Ehi. Ehi. Bello, bello. Non so se mi sta laggando forne, se mi sta... Stiamo così. Raga, adesso arrivo, adesso arrivo. Torno a fare col phon sulla tastiera. Mi sa che... Raga, arrivo subito. Devo riprendere il phon. Mi sto arrabbiando. Ma cosa succede? Io non sono mai entrato in partita. Scusa... Ragazzi, scusatemi. Ma come vedete, sta succedendo un casino. Sta succedendo un casino. Salutami e ti si sbagga la tastiera. Francesco, ti saluto, ma la tastiera non mi si sbagga. Perché? Perché? Maledetta la monster. Maledetta la monster. Maledetto io che la devo muovere per il nulla. Ah, Dio. Ma Dio. Perché mi mette in partita? Non ho mai cliccato su gioca. C'è un demone nella tastiera, forse. Ma veramente? Ma veramente? Raga, questo è un bel problema, eh. Questo è un bel problema, ma un problema non da poco. Io spero vivamente che torni ad andare. Cioè, già è meglio di prima, per carità. Scollega la tastiera un secondo. Ma non è il discorso del scollegare la tastiera, secondo me. Comunque io la scollego anche. Il problema è che se la scollego poi potrei dover far finire la live perché non la rileva più. Ok, ok. L'ho scollegata un secondo. Vediamo un po'. Ok, l'ha rilevata. No, raga, è impazzita lo stesso. È comunque impazzita. Cosa sta facendo? Cosa sta facendo? Cosa sta facendo questa roba? Spegni e riaccendi il computer, forse si è surriscaldato. No, non c'entra niente, raga, il computer. Solo la tastiera. Facciamo una cosa, facciamo una cosa. Raga, avere tante tastiere a volte aiuta. Aspettate. Aspettate un attimo. Raga, ora cerco di risolvere. Ora cerco di risolvere. Faccio subito. Sto cambiando tastiera, sto cambiando tastiera. Ok, però il cavo è attaccato, Dio. Dio tastiera. Per me non sono bestemmie. Sono tutti di, ma di diverse categorie. Ok, raga, sto cambiando tastiera, semplicemente. Io non capisco, lagga, non lagga, funziona, non funziona. Raga, mi dispiace, ma mi sa che devo far finire la live per questa roba. Mi sa che devo far finire la live per questa roba. Raga, non posso fare altrimenti. Non posso fare altrimenti. Alla fine cosa ho dovuto fare? Ho dovuto tagliare tutti i laccetti che tenevano insieme i miei cavi, perché quelli della tastiera erano attaccati. Ho dovuto togliere tutte le tasti della tastiera e metterle a lavare in una bacinella con del sapone. Dopodiché ho dovuto prendere la tastiera, spazzolarla via per bene, per pulirla del tutto, metterla all'aria fresca col ventilatore davanti in modo che si asciugasse, nel mentre che io lavavo ad uno ad uno tutti i tasti. Dopo, tipo, due ore che ho lasciato ad asciugare il tutto, ho dovuto riassemblare tutti i tasti, collegare la tastiera al computer, sperando che andasse, e alla fine, andava. Yes! Grazie a tutti!